è cresciuto in Italia il numero dei lavoratori impiegati nelle cooperative sociali. Secondo un rapporto della Commissione Europea pubblicato la scorsa settimana e coordinato da Eurix e tra il 2008 ed il 2014 è stato calcolato un incremento del 20,1 per cento dell'occupazione nel terzo settore. Ma sentiamo i dettagli nel servizio. In Italia le imprese tradizionali hanno perso quasi 500 mila posti di lavoro tra il 2008 ed il 2014, mentre il lavoro complessivo dei lavoratori delle cooperative sociali è passato da 340 mila a 407 mila lavoratori, registrando così una crescita del 20 per cento. Sono solo alcune delle rilevazioni contenute nel rapporto della Commissione Europea pubblicato la scorsa settimana e coordinato da Eurix e. Il report ha dato seguito al primo mapping study svolto nel 2014 e che aveva come obiettivo quello di migliorare la qualità dei risultati contenuti in 7 dei 29 rapporti nazionali elaborati nel 2014. Lo studio evidenzia come il fenomeno dell'impresa sociale in Italia sia tra i più evoluti a livello europeo. Il suo ecosistema è infatti ricco, ben sviluppato e diversificato e può contare sul supporto da parte delle istituzioni pubbliche locali e nazionali, così come di efficaci sistemi di sostegno reciproco. Nel nostro paese, indipendentemente dalla forma giuridica, ci sono circa 100.000 imprese sociali che coinvolgono più di 850 mila lavoratori e 1,7 milioni di volontari. Stando al dossier inoltre, le cooperative sociali si confermano le principali protagoniste del mondo delle imprese sociali in Italia, tra le forme organizzative che più soddisfano i requisiti della definizione europea dell'impresa sociale contenuta nel documento Social Business Initiative, ci sono anche le imprese sociali ex legge e le associazioni e fondazioni.